Vertenza Gela, sviluppo ed occupazione, i progetti da mettere in campo per risolvere la grave crisi occupazionale che interessa lo stabilimento gelese con i lavoratori dell'indotto in ansia per il loro presente ed il loro futuro. Se ne è parlato oggi allo del Sileno nell'ambito di un incontro promosso dall'UGL. I lavori sono stati aperti da Franco Dilano, responsabile UGL Gela, presente tra gli altri Andrea Alario, segretario provinciale UGL Chimici, Paolo Capone, segretario generale nazionale UGL. La preoccupazione che abbiamo veramente forte è legata soprattutto a quello che è l'andamento dei prezzi del petrolio sullo scenario internazionale che ai prezzi di oggi veramente diventa difficile produrre e questo vale per Gela, per le trasformazioni, vale per tutto quanto il mondo, anche lo stesso mondo arabo. Questa è una grande preoccupazione, insieme a questa preoccupazione abbiamo una preoccupazione invece più nostra che riguarda anche la Sicilia ma riguarda una vertenza Italia che secondo noi continua ad essere aperta che è quella della mancanza di politiche industriali. Non si sono fatte politiche industriali negli ultimi tre anni, non c'è un'indicazione, non c'è un destino per questo paese. Quindi andiamo dal petrolchimico e dall'abbandono per esempio della Versalis e della chimica da parte di Eni, andiamo a quella che è tutta la vertenza dell'Ilva ma andiamo a una desertificazione industriale che sta colpendo il sud ma anche il nord e quindi su questo siamo molto preoccupati. Luigi Ulgiati, segretario generale nazionale UGL chimici, sottolinea che la situazione a Gela come nel resto del meridione d'Italia è preoccupante. La prossima settimana, il 24, abbiamo un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico dove cercheremo di fare il punto e cercheremo di dare quelle risposte che ormai questo territorio si aspetta. Qui non si tratta soltanto di far ripartire il polo industriale, il polo chimico, quindi la raffineria e quindi far partire i lavori per la green refinery. Si tratta proprio di dare delle risposte ad un indotto che deve in qualche modo dare delle speranze ai cittadini di Gela. Giovanni Condorelli, segretario confederale nazionale politica del Mezzogiorno. Noi siamo presenti ai tavoli per le vertenze più spinose che purtroppo stiamo vivendo in questo momento, dall'Ilva, all'Eni e ad altre problematiche che affliggono il meridione dal quale purtroppo non si riesce a risalire, a riprendere quella strada della crescita che non esiste. Ecco perché noi diciamo a Renzi non so in quale paese vive, perché noi viviamo tutti i giorni la crisi, le difficoltà dei lavoratori e cerchiamo di portare avanti con la nostra presenza anche oggi qua a dei massimi vertici del sindacato in dando la vicinanza ai lavoratori, ma soprattutto di portare delle proposte ai tavoli prossimamente per dire che questo stato di crisi perenne non può più continuare.